26 dicembre 1944. La terza armata americana del generale Patton riesce a sfondare le linee tedesche raggiungendo Bastogne, nodo di comunicazione difeso dalla centunesima divisione aviotrasportata americana da giorni sotto l'attacco delle divisioni corazzate della Wehrmacht. È l'inizio della fine della battaglia delle Ardenne, l'ultima offensiva tedesca sul fronte occidentale della seconda guerra mondiale.